Salve a tutti gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati per questa quarta puntata della seconda stagione di Polis, il primo piano sulla politica a cura di come Don Chisciotte. Oggi affronteremo quello che è il tema centrale di queste settimane, cioè la questione immigrazione, prendendola però da diversi punti di vista, sia per quanto riguarda l'aumento della sicurezza voluta dal governo che poi si traduce in più militari per le strade, sia per quanto riguarda il nuovo scontro con la magistratura. Poi affronteremo un altro tema molto importante che ci accompagnerà a lungo, cioè quella della legge di bilancio, perché la settimana scorsa è arrivata la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che fa intravedere i primi passi che il governo compierà nelle prossime settimane. Io sono Massimo Antonino Cascone e questa è Polis. Allora come vi ho detto prima i due argomenti centrali della puntata sarà la questione sicuritaria grazie all'immigrazione, lo scontro con la magistratura e poi argomenti economici e fiscali. Prima però andiamo ad analizzare tutto quello che è accaduto durante la settimana anche cercando poi di ricostruire i singoli eventi e partiamo con gli aggiornamenti rispetto al tema immigrazione che come detto è stata già protagonista delle nostre precedenti analisi. Nello scorso appuntamento di Polis la settimana scorsa abbiamo diviso l'argomento tra quella che è la situazione a livello nazionale con i provvedimenti presi dal governo Meloni per arginare tra virgolette l'invasione e la situazione europea con i negoziati portati avanti dagli stati per pervenire a una soluzione comune sulla scorta di quanto detto da Ursula von der Leyen quando ha visitato Lampedusa. Ebbene che la si prendi dal punto di vista italiano o dal punto di vista europeo le novità non sono affatto positive nell'ottica ovviamente di una stabilizzazione del problema. Sul piano nazionale il nuovo decreto migranti che come abbiamo detto ha portato a 18 mesi il tempo massimo di detenzione per i richiedenti asilo nei Cpr e ha introdotto la cauzione di 5.000 euro pagabile ovviamente per chi sbarca in Italia per evitare la detenzione appunto nei centri ha già trovato un ostacolo importante alla sua attuazione. Non è un ostacolo dovuto alle opposizioni infatti il Movimento 5 Stelle in questo periodo sembra completamente sparito dal dibattito sul tema mentre il PD con la sua nuova segretaria è diventato ancora più imbarazzante e inconcludente di quanto sia mai stato. Parliamo per quanto riguarda questo ostacolo che si è opposto al governo della magistratura italiana cosa che è già accaduta in passato ricorderete nella scorsa stagione e per quanto riguarda il caso specifico la magistratura e in particolare il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante che era sbarcato a metà settembre a Lampedusa ed era stato portato nel CPR di Pozzallo accolto il ricorso del migrante giudicando il recente decreto illegittimo in più parti in quanto confliggente sia con la normativa dell'Unione Europea che con i principi costituzionali italiani. Una pronuncia che ovviamente ha fatto infuriare il governo con il ministro Salvini, Giorgio Meloni e anche il ministro Piantedosi che hanno confermato a più riprese in questi giorni la volontà dell'esecutivo di ricorrere contro il provvedimento del Tribunale di Catania, quindi ricorrere in Cassazione additando il provvedimento come un attacco politico contro gli sforzi del governo per arginare il problema immigrazione. Venendo invece alla questione immigrazione in Europa continuano i serrati controlli alle frontiere di Germania, Francia e Austria per impedire ingressi illegali dall'Italia. Nonostante, come abbiamo detto anche nelle precedenti puntate, gli sforzi di Giorgio Meloni e nonostante il trilaterale che la stessa ha avuto con Emmanuel Macron e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a margine del summit dei paesi del Mediterraneo tenutosi a Malta il 29 settembre. Intanto a Bruxelles si sta tentando faticosamente di stringere un nuovo patto per i migranti che superi l'accordo di Dublino. Dopo lo stallo della settimana scorsa dovuto alle richieste della Germania di continuare a finanziare le ONG, comprese quelle che trattano quegli scafisti in maniera diretta, quindi una vera e propria dichiarazione di sostegno alle tratte clandestine, una dichiarazione quella della Germania che poi aveva anche trovato una opposizione forte da parte di vari paesi, tra cui l'Italia, ebbene nelle ultime 48 ore pare si siano aperti degli spiragli per fare un passo avanti rispetto alla questione delle trattative, con la Germania che sembra abbia ritirato questo suo emendamento all'accordo. È un'accelerazione quindi dei negoziati che potrebbe garantire anche un accordo informale già nel vertice di Granata di domani. A rendere però meno piacevole la notizia di questo possibile accordo che i stati stanno trovando è arrivata la dichiarazione della Tunisia tramite le parole del suo presidente Sayed, che ha diffuso un comunicato nel quale sosteneva di rifiutare i fondi stanziati dall'Unione Europea in favore appunto della Tunisia. In particolare il comunicato recita così, la Tunisia non accetta la carità né l'elemosina, il nostro paese e la nostra gente non vogliono pietà ma esigono rispetto. Questo è un comunicato che sottolinea come le azioni delle ultime settimane fatte dall'Unione Europea rispetto alla questione ONG e migranti stanno contraddicendo, secondo Sayed, il memorandum d'intesa firmato a Tunisi lo scorso luglio. Una situazione quindi molto tesa che conferma anche la spaccatura interna all'Unione Europea che si sta riverberando quindi a questo punto anche sui paesi africani. Cambiando argomento, venendo ad altri temi della settimana, ovviamente non possiamo non raccontare un po' quello che è stata la NADEF, cioè la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che è stata approvata il 27 settembre dal Consiglio dei Ministri e che poi è stata portata proprio in questi giorni all'analisi del Parlamento. Un documento che come sapete segna il primo vero passo verso la legge di bilancio che sarà sicuramente uno dei temi centrali delle prossime puntate, come dicevamo, e ne fa già intravedere la struttura con i provvedimenti principali come il taglio del cugno fiscale che il governo vuole confermare. Rimanendo poi sul tema economia e finanza ci sono da menzionare anche due provvedimenti di questa settimana come il carrello salvaspesa che è stato voluto dal governo per contrastare l'inflazione e soprattutto le conseguenze della stessa sulla spesa degli italiani e il bonus trasporti che è stato lanciato il primo ottobre e al quale sono riusciti a cedere oltre 200.000 cittadini. Dalle notizie di questi giorni poi trova spazio anche quella che è stata la strana dichiarazione di Giorgia Meloni durante un battibecco avuto con i giornalisti a Malta e ci riferiamo alle affermazioni della Premier che ha parlato di una forma di attacco che da più parti sta venendo nei confronti del governo con l'aiuto della stampa. Un attacco che punta a sostituire l'attuale esecutivo con uno tecnico. Un cambio di governo che ovviamente questi fratelli d'Italia eh dice essere sostenuto fortemente anche dal Partito Democratico. Ultima notizia della settimana infine e eh ci tengo insomma a raccontarvela riguarda eh quella che è stata la collaborazione tra la Commissione Europea e Meta che vede l'Italia prima in classifica per quanto riguarda la censura subita dal social Facebook. E infatti Meta ha rimosso più di 45.000 contenuti dal dal Facebook italiano quindi dei contenuti che arrivano dal nostro paese in attuazione del codice di condotta sottoscritto dalla piattaforma social in collaborazione con la Commissione Europea. I numeri italiani parlano di quasi un terzo dei tutti di tutti quelli che sono stati contenuti che eh Meta e in particolare Facebook ha cancellato per quanto riguarda i paesi europei che arrivano a 140.000. Sono dati importanti da ricordare e che soprattutto danno ancora più valore all'attività che noi di come Don Quixote così come tante altre realtà dell'informazione indipendente portiamo avanti. Queste erano le notizie della settimana, adesso il servizio. Pressato dai tempi stretti europei, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 27 settembre il documento di aggiornamento del DEF, una tappa fondamentale per comprendere che legge di bilancio ci attende, a maggior ragione se una prima bozza dovrà necessariamente arrivare alle Camere entro il 20 ottobre. nella speranza di una discussione che si riveli in discesa. Nonostante la sticella del deficit tocchi il 4,3% come annunciato dal Ministro Giorgetti. Uno strappo rispetto all'obiettivo del 3% voluto da Bruxelles che dovrebbe garantire al Governo di confermare i principali provvedimenti come il taglio al cugno fiscale, le misure premiali per la natalità e i rinnovi contrattuali nella pubblica amministrazione. Con l'economia lasciata agli esperti, Giorgia Meloni si è potuta invece concentrare sulla risoluzione del principale problema delle ultime settimane, la questione immigrazione, tanto sul piano nazionale che europeo. In casa non c'è dubbio che la strategia del pugno duro stia creando più seccature che soluzioni. Ad attaccare il governo questa volta è la magistratura, che ha contestato la nuova procedura di trattenimento dei CPR e la cauzione di 5.000 euro da pagare per non finire nel centro, definiti entrambi i provvedimenti contrari alla normativa europea e non in linea con i principi costituzionali. Per fortuna risollevare la Premier da questi malumori è arrivata la decisione di destinare ulteriori 400 unità militari all'operazione Strade Sicure. Nell'ottica della costante militarizzazione della società civile, fortemente perseguita dalla destra con la scusa della sicurezza. Se questa è la situazione nostrana, in Europa le cose non vanno meglio. Dopo la riunione del Consiglio UE del 28 settembre, durante la quale è saltato l'accordo sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo a causa delle richieste tedesche, dal summit dei paesi del Mediterraneo tenutosi a Malta, non sembra che Giorgia sia riuscita a ricavare consensi. Si è infatti dovuta accontentare dell'ennesimo trilaterale con Macron e von der Leyen, condito dalle solite dichiarazioni di facciata date in pasto alla stampa, ma prive di sostanza. Stampa che non ha esitato a ricordare alla Premier come sul suo governo incomba l'ombra di un tecnico pronto a farle le scarpe. Ci aspetta un ottobre molto caldo, e non solo per il clima. Ecco ovviamente ad accompagnarmi nell'analisi della settimana ci sono il professor Luca Lanzalacolo dell'Università di Macerata e l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce, che saluto. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora Umberto, voglio partire proprio da te e in particolare dalla questione immigrazione, ma visto che è una questione che ci portiamo avanti da settimane, direi di concentrarci soprattutto sugli avvenimenti più freschi. Mi riferisco a questa nuova spaccatura che si è creata tra l'esecutivo Meloni e la magistratura italiana, con il provvedimento del tribunale di Catania, che insomma ha rilasciato un richiedente asilo, accolto il ricorso del richiedente asilo, quindi dandogli la possibilità poi di uscire dal CPR e il giudice poi ha giudicato il legittimo, l'ultimo decreto per quanto riguarda quelli che sono i suoi contenuti. Quindi la detenzione fino a 18 mesi e questa cauzione di circa 5.000 euro che può essere pagata per evitare la detenzione. Ecco, tu come vedi questa nuova spaccatura che si è formata? Pensi che ci possano essere degli estremi di ragionevolezza per quanto riguarda quello che è stato detto dal giudice e come si muoverà il governo, secondo te? Secondo me questa spaccatura è piuttosto grave perché mette in luce una visione dei poteri dello Stato non totalmente in linea con l'impianto costituzionale da parte del governo Meloni, che infatti oggi, se non sbaglio, ha un po' corretto il tiro rispetto all'isternazione di ieri, perché ieri ha accusato i magistrati di scagliarsi contro il governo democraticamente eletto, come se l'attività giudiziaria è l'applicazione delle leggi, che può essere sindacabile certamente, ma sia in qualche modo l'attacco alla democrazia o a un governo non eletto e quindi come implicitamente se un governo democraticamente eletto avesse quindi il diritto di fare le leggi che vuole, a prescindere dai contorni costituzionali europei, ma non è questo il caso, anzi la divisione dei poteri serve appunto per permettere al potere giudiziario di limitare così la discrezionalità assoluta del governo, che detto fra di noi è democraticamente eletto, né nel senso che da una parte, come abbiamo visto, il sistema elettorale insieme all'alta astensione fa sì che sarà pure democraticamente eletto ma rappresenta una parte minoritaria del paese e poi comunque il governo di fatto è nominato dal Presidente della Repubblica e non è eletto tecnicamente in realtà, certo tendenzialmente l'espressione delle elezioni, ma il Presidente della Repubblica in realtà non è tenuto a tenere in considerazione il risultato elettorale, quindi questa è una specificazione che sarebbe da fare. Per quanto riguarda la sentenza nello specifico, secondo me la sentenza è ineccepibile nel senso che il decreto va contro due ordini di giurisdizione, la normativa europea e la Costituzione, perché questo? Perché la nostra Costituzione all'articolo 10 stabilisce esplicitamente che la condizione giuridica dello straniero e anche del richiedente protezione internazionale dipende dalle norme internazionali, quindi c'è un rimando ai trattati internazionali, questo anche perché poi nel tempo si è affermato il principio secondo cui il diritto europeo prevale sul diritto nazionale, ma all'inizio non era esplicitamente così e quindi la Costituzione ha voluto dire che questo tipo di materia è regolata innanzitutto dal diritto internazionale e che questo quindi prevale sulla normativa nazionale, pacificamente. In secondo luogo l'articolo 13 stabilisce una grande garanzia verso la libertà personale, uscendo dalla fase storica dei fascismi i pali di Costituenti hanno voluto blindare la sicurezza e la libertà personale stabilendo che quindi questa può essere limitata soltanto da un provvedimento dell'autorità giudiziaria e questo è fondamentale perché in pratica sta dicendo che non può essere un decreto del governo o un atto amministrativo a privare della libertà a una persona, ma deve essere soltanto un atto dell'autorità giudiziaria, quindi di un giudice. Per quanto riguarda la normativa europea, è chiara nello stabilire che un soggetto non può essere trattenuto soltanto al fine di valutare le idoneità alla protezione internazionale e che il trattenimento può essere effettuato soltanto qualora non vi siano metodi meno invasivi di gestire il richiedente e quindi fondamentalmente secondo me ha ragione il giudice nel dire che il decreto viola questa serie di parametri, non può essere un decreto comunque a sancire una ritenzione, e non può essere neanche il questore, in realtà deve essere un provvedimento dell'autorità giudiziaria e inoltre vi sono tutti i presupposti sanciti della normativa europea del 2013 che effettivamente in maniera chiara dispongono che non si può trattenere un soggetto. Quindi secondo me la polemica della Meloni è sterile, sì lei potrà fare ricorso alla Cassazione, ma dubito che questo provvedimento verrà riformato, perché in qualche modo si rifà esplicitamente alla Costituzione e alla normativa europea che pacificamente, non solo vi è un rimando esplicito nell'articolo 10 della Costituzione, ma ormai pacificamente la normativa europea prevale sulla normativa nazionale, per cui una legge nazionale in contrasto con la normativa europea deve essere disapplicata. Questo è pacifico, insomma si possono fare le polemiche che si vuole, ma resta un fatto giuridico incontrovertibile. Ecco la cosa bella, ricordo che pochi giorni dopo la decisione del governo, insomma di innalzare a 18 mesi il limite di detenzione e poi l'introduzione di questi 5.000 euro per evitarla, Salvini era ospite di un programma, se non sbaglio a Rd4 e disse proprio, no ma ce lo permette l'Europa, in realtà a quanto pare forse questi proclami se li poteva risparmiare. E a proposito poi di quello che dicevi tu all'inizio, cioè che insomma Giorgia Meloni, l'esecutivo Meloni in generale, fa molto leva su questa questione di un governo democraticamente eletto e quindi per questo legittimato, è la stessa risposta che più o meno ha dato anche ai giornalisti che insomma l'avevano punzecchiata su questa questione del governo tecnico. E allora prima di passare poi la parola al professor Lanzalaco, voglio vedere insieme a voi questo video. Prego Giulio. Presidente se posso, i mercati sembrano un po' spaventati, ho visto gli osservatori sostenuti. Ho visto, avete già fatto il governo tecnico? Ha fatto i ministri del governo tecnico, lei? No, come lei sa, quelli sostenete voi, io sono per la democrazia. No, le chiedevo, gli osservatori sostengono che legano, alcuni osservatori legano, diciamo questo aumento del rendimento di diritto di Stato a alcuni numeri della Nadef che sarebbero sovra sottostimate a secondo il punto di vista e le volevo chiedere se appunto c'è questo tipo di preoccupazione rispetto allo spread, ho visto anche il Presidente di Confindustria Bonomi ha oggi, diciamo, ha chiesto di agire di più sul debito, di intervenire più sul debito, perché l'attenzione, diciamo, sembra essere preoccupante a questo punto di vista, non chiederebbe un bene. No, guardi, io non, diciamo, questa preoccupazione la vedo soprattutto nei desideri di chi, come sempre, immagina che un governo democraticamente eletto, che sta facendo il suo lavoro, che ha una stabilità, che ha una maggioranza forte, debba andare a casa per essere sostituito da un governo che nessuno ha scelto. A me diverte, adesso lo dico sinceramente, mi diverte molto il dibattito con Giaff, se fanno i nomi dei ministri dei governi tecnici, temo che questa speranza non si tradurrà in una realtà, perché l'Italia rimane una nazione solida, è una nazione che ha una previsione di crescita superiore a quella della media europea anche per il prossimo anno, superiore a quella della Francia e della Germania anche per il prossimo anno. Lo spread, come ha visto, ha ricominciato a scendere oggi e probabilmente dopo aver letto alcuni titoli gli investitori hanno letto pure la Nadef, nel senso che la Nadef racconta dei numeri seri in previsione di una legge di bilancio estremamente seria, perché mi faccia capire il governo tecnico da chi dovrebbe essere sostenuto? Da quelli del super bonus? No, perché è lì che io vedo un problema per i conti pubblici italiani, non in chi le poche risorse che ha le spende per metterle sui redditi più bassi senza lasciare voragini aperte a chi viene dopo? No, per cui io non vedo questo problema, vedo questa speranza da parte dei soliti noti, mi fa sorridere, ma guardi voglio tranquillizzarla. Diciamo, il governo sta bene, la situazione è sicuramente complessa, l'abbiamo maneggiata con serietà lo scorso anno, la maneggiamo con serietà quest'anno, lo spread che oggi lanciate come se fosse già alla fine del governo Meloni stava adesso a 192 punti, ottobre scorso stava a 250, nell'anno precedente al nuovo governo è stato più alto e i titoli non li ho visti, quindi insomma, solleggere la politica e solleggere la realtà. Ecco, voi dopo, scusi, dalla sinistra continui a fare la lista dei ministri e il governo tecnico che noi intanto governiamo. Grazie, buon lavoro. Insomma, è chiaro che la questione legge di bilancio e la valutazione dei mercati rispetto alla legge di bilancio è stata la scusa del giornalista per andare a punzecchiare un po' la Meloni che però mi sembra si sia difesa abbastanza bene. Professore, do la parola a lei, della Nadef parleremo nella seconda parte delle domande che vi farò, però volevo cogliere insomma questo assist di Umberto Del Noce per mandare in onda questo video. Correi invece voglio rimanere sulla questione migranti per il momento perché noi la scorsa puntata abbiamo parlato di un raddoppio dei CPR, dei centri per il rimpatrio, di permanenza il rimpatrio e che insomma questo raddoppio vanno costruiti, vanno individuati i luoghi e poi vanno anche in qualche modo tenuti sotto controllo e quindi parlavamo di un aumento delle forze dell'ordine e anche dei militari per le strade italiane e un aumento poi che effettivamente è arrivato perché come hanno potuto anche vedere dai vari titoli di giornali i nostri spettatori il governo Meloni ha deciso per un aumento di circa 400 unità di militari proprio per l'operazione Strade Sicure. Ecco allora per quanto riguarda la questione securitaria che è poi una questione cardine della nostra analisi del governo Meloni, lei che cosa ne pensa? Penso che sia in corso appunto dal 2000-2008 un escalation, una crescita esponenziale o quasi del numero di unità dell'esercito utilizzate nella cosiddetta operazione Strade Sicure, cioè un'operazione finalizzata a contrastare la microcriminalità. Se la regia vuole proiettare la tabella che abbiamo preparato, non è un plurale ma è statice che ci abbiamo lavorato anche con la redazione, molto rapidamente vediamo nel 2008 parte l'operazione Strade Sicure con 3000 unità, nel 2009 si ha la proroga, vengono aumentate le unità di 1250, nel 2015 si arriva a un contingente di 4500 unità più 600 unità per l'Expo, quindi siamo a 5100 unità, nel 2019 c'è una importante dichiarazione addirittura del capo di Stato maggiore Salvatore Farina che dice no guardate che le unità complessive coinvolte sono ben di più e cioè sono 22 mila perché dovete tenere punto che c'è la rotazione, ci sono le esercitazioni, quindi complessivamente le unità coinvolte sono molti di più e 22 mila significa quasi metà delle unità complessive dell'esercito italiano che è composto di 45 mila unità. Nel 2020 c'è un aumento di quasi 1000 unità, 750 unità per l'emergenza Covid, però si prevede anche nel giro di un paio d'anni di una riduzione da 7000-5000 unità entro il 2022. Di fatto questo non sta avvenendo perché la legge di bilancio proroga comunque il contingente minimo di 5000 unità nel 2021, sempre nel 2021 c'è un decreto col quale si arriva a oltre 6400 unità e poi nel 2021 iniziano a presentarsi sulla scena politica i generali. Nel 2021 il generale Figliuolo viene nominato commissario straordinario per l'emergenza Covid e per il coordinamento della campagna vaccinale, nel 2023 sempre l'ubico generale Figliuolo viene nominato commissario straordinario per l'emergenza alluvione Emilia Romagna Toscana Marche. E sempre nel 2023, altro evento che non riguarda direttamente il governo però ha avuto una forte esposizione mediatica, il generale Vannacci pubblica pubblica un libro, Il mondo al contrario, è un libro che ha fatto discutere molto per le sue tesi omofobe, razziste, eccetera, eccetera, e immediatamente è partita una candidatura della Lega. Quindi i generali iniziano a piacere. Ecco, tenete conto che attualmente ci sono 325.000 unità di forze dell'ordine, quindi calcolando anche polizia, carabinieri, guardia, guardia di finanza. Stiamo parlando di una presenza massiccia dei corpi armati dello Stato di fatto. E quindi si sta affermando quello che all'estero è già stato segnalato come un grosso rischio, un grosso pericolo, cioè l'affermazione del paradigma securitario. In Francia pare ormai che Macron, sempre più debole dal punto di vista politico, faccia sempre più ricorso all'uso della polizia e soprattutto di reparti speciali particolarmente violenti. Qua voglio ricordare quello che mi è venuto in mente mentre pensavo alla trasmissione che nel 2017 Salvini, a raduno di Pontida, disse con noi la polizia avrà le mani libere e se non sbaglio l'altro ieri a Torino si è visto che la polizia ha usato le mani o più precisamente ha usato i manganemi. Quindi ecco c'è un paradigma securitario, intellettuali in altri paesi, in particolare la Francia, gli intellettuali si stanno mobilitando su questo punto perché chiaramente una minaccia per la democrazia non è la mia, non è un'affermazione di principio, cioè c'è una, forse l'ho già detto in un'altra trasmissione, però lo ripeto, c'è una bella frase dei due massimi studiosi dei regimi autoritari in America Latina e non solo che dice che democrazia sono i militari in caserma, nel senso chiusi in caserma. E quindi si afferma questo paradigma securitario. In che cosa consiste? Se ho a disposizione un paio di minuti lo dico, lo spiego perché è importante. Assolutamente, è importante. Ecco, allora parlarvi di sicurezza, uno dice ma che bello la sicurezza, la sicurezza si caratterizza come noi politologi la chiamiamo una valence issue, cioè una issue, una questione sulla quale si chiamano tutti da chi non vuole la sicurezza. No, cioè tutti vogliono la sicurezza. Il problema è che poi questo viene declinato in modo diverso e il paradigma sicuritario si articola in cinque punti. Primo è un paradigma trasversale, cioè riguarda la sicurezza nel campo della salute. In Italia è iniziato ad affermarsi con particolare virolenza proprio con la pandemia, c'era anche prima perché strade sicure del 2008, però l'elicottero che rincorreva, uno che correva da solo su una spiaggia l'abbiamo visto, i posti di blocco sulle strade eccetera. Quindi è trasversale, riguarda la salute, riguarda l'economia, riguarda l'ordine pubblico. È un paradigma trasversale, assolutamente. Il secondo è un paradigma che si basa sulla presenza di una minaccia, una minaccia, quindi una creazione di un'incertezza. Notate una minaccia che non necessariamente deve essere reale, l'importante è che sia percepita e dopo su questo punto torneremo perché vorrei evidenziare quello che è il paradosso, il circolo vizioso del paradigma secolitario. Terzo punto, la sicurezza diventa quindi che cosa? Il bene supremo, il valore supremo per la sicurezza, alla sicurezza si piega a qualunque altro valore, la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti individuali. Prima di tutto viene la sicurezza e questo lo slogan potrebbe essere a mali estremi e estremi rimedi e quindi questo porta lentamente a che cosa? In quello che appunto hanno segnalato alcuni sociologi francesi e cioè il rischio di finire in quello che Carl Schmitt chiamava lo stato di eccezione, la sospensione di regole. Quarto punto, se c'è questa minaccia incombente allora anche la risposta deve essere radicale, la risposta dello Stato deve essere radicale per contrastare questa minaccia. Quindi appunto qualche mese fa abbiamo visto i reparti speciali della polizia francese a Parigi, Nazione, abbiamo visto a Torino appunto l'altro l'altro ieri la polizia che picchiava dei ragazzini che non avevano caschi, non avevano aste, bandiere, niente, cioè semplicemente esprimevano il loro dissenso nei confronti del governo Meloni, quindi stiamo attenti alla repressione non di azioni violente ma di espressioni di senso. Quindi radicalità, abbiamo visto aumento delle forze dell'ordine militari in giro per le strade. E qui arriviamo al quinto punto ed è quello il circolo vizioso, il paradosso del paradigma sicuritario, cioè per creare più sicurezza che cosa si fa? Si riempiono, uso di poliziotti, più aumenta la percezione di insicurezza, perché se ci sono tanti militari per le strade le persone che cosa fanno? Percepiscono un rischio, una minaccia, se no se ne starebbero nelle caseme. È uscita qualche giorno fa una ricerca da cui emerge proprio questo, cioè come a fronte di dati tutto sommato, se visti in maniera aggregata, in modo aggregato, in forma aggregata, non particolarmente preoccupanti, ci sia invece un aumento della percezione, del rischio, della minaccia e contribuisce a mio parere a creare questa percezione anche una presenza diffusa delle forze dell'ordine per le strade, perché ripeto è un segnale di rischio, di minaccia, se non ci fosse la minaccia non ci sarebbero militari, non ci sarebbero carabiniere, non ci sarebbe polizia in giro per le strade e quindi è un circolo vizioso, non so se sono stato chiaro, è un paradosso, è un paradosso, per creare apparentemente sicurezza si genera insicurezza nella percezione delle persone e ricordiamoci che poi i cittadini votano non sulla base delle statistiche di l'Istat ma sulla base delle loro percezioni. Assolutamente, professore, è stato chiarissimo e le confermo queste percezioni. Io che abito a Napoli, che è una delle metropoli dove l'operazione strade sicure è stata maggiormente portata avanti in questi anni, ci sono una serie di zone della città che sono presidiate costantemente e questo continuo controllo non dà la percezione della sicurezza, quindi il paradigma di cui parlava lei, questo cane che si morde la coda, glielo confermo assolutamente. E poi questo controllo costante in nome della sicurezza, questa prevenzione del pericolo, ha tante sfaccettature. Secondo me anche la questione della censura su Facebook da un certo punto di vista può essere considerata una delle tante sfaccettature di questo costante controllo che il governo, comunque le istituzioni cercano di rendere sempre più prestante nei confronti dei cittadini. Non a caso poi i nostri spettatori sanno cosa sta avvenendo in alcune città italiane come Trento, Venezia, che praticamente sono state riempite di telecamere, addirittura di microfoni pubblici, proprio con la scusa della sicurezza e sicuramente sarà un tema che continueremo ad affrontare perché poi una delle direttrici della nostra analisi di questo governo, ma insomma delle istituzioni italiane degli ultimi anni. Per terminare, su questo tema può essere utile vedere anche la seconda tabella che abbiamo preparato e così capiamo bene qual è la situazione italiana. Questi sono dati tratti da affari internazionali, abbiamo citato la fonte, dati 2022, ma non penso che nel giro di un anno siano cambiate molto le cose, ecco per ogni 100.000 abitanti l'Italia ha 453 addetti alle forze di sicurezza statali. La Spagna ha 361, la Francia ha 320, notate 320 in Francia dove c'è l'allarme sul paradigma sicuritario, sociologi e filosofi francesi si sono allarmati, ecco 320 contro 453, e 297 in Germania, 211 Regno Unito. Quindi contro una media europea di 355 addetti per ogni 100.000 abitanti non abbiamo 453. Questo è il risultato nostrano dell'affermarsi del paradigma sicuritario. Questa è la seconda classifica dove siamo primi dopo quella della censura di Facebook ed entrambe ce le saremmo potute risparmiare insomma questo primo posto. Come dicevo, venendo alla seconda parte della puntata, quella che riguarda i temi economici, Umberto ritorno da te perché le due notizie principali oltre alla Nadef sono i provvedimenti bonus trasporti e il provvedimento salva spesa, questo carrello anti-inflazione. Per quanto riguarda il bonus trasporti voglio giusto sottolineare come è vero che oltre 200.000 persone hanno avuto accesso a questo bonus ma a fronte di 200.000 persone che ci sono riuscite ci sono tantissime altre che non ci sono riuscite perché per ottenere questo bonus addirittura il governo consigliava di essere il più veloci possibili perché i soldi messi a disposizione non ce n'erano per tutti quanti e quindi chi era più bravo a alloggarsi sulla piattaforma attraverso della piattaforma del governo attraverso lo speed o la carta di identità elettronica poteva accedervi. Quindi insomma un bonus che si può insomma considerare una forma di welfare e che però non è per tutti insomma è soltanto per chi è più veloce. E Comberto in generale che ne pensi di questi due provvedimenti riescono ad andare alla radice del problema? Sono dei palliativi? Evidentemente no. Per quanto riguarda i bonus certo il governo avendo comunque le mani legate su politiche monetarie fa queste forme assistenziali che sono del tutto inutili. Se non sbaglio il bonus trasporti di circa 12 milioni di euro. Guarda giusto oggi ho letto, mi è tornato così lo sguardo su una intervista a Monti, non mi ricordo in che anno, in cui intervistato in una università americana disse esplicitamente noi stiamo distruggendo la domanda interna. Quindi di fatto Monti aveva dichiarato esplicitamente che il suo compito era quello di abbattere la domanda interna, quindi di fatto impoverire il popolo italiano, deindustrializzare l'Italia, esporla molto di più alle importazioni. E voglio dire anni e anni di questa ricetta ora portano il conto di un paese con un tessuto sociale gravemente segnato, ma senza politiche in grado di rilanciare la produzione, l'industrializzazione e prospettive di crescita e quindi ci si limita a queste forme di sussistenza totalmente inutili ma che evidentemente si spera in qualche modo portino qualche forma di consenso. Per quanto riguarda il trimestre antiinflazione, anche questo è abbastanza ridicolo come misura, nel senso che è totalmente inefficace dal punto di vista macroeconomico, uno perché è inadeguata come volume, nel senso che i prodotti interessati sono pochissimi e in realtà vengono bloccati i prezzi, ma i prezzi di listino che sono già limitati negli ultimi mesi, ora vengono bloccati, ma questo di fatto paradossalmente se i prezzi dovessero calare noi li avremmo comunque a prezzo bloccato. E poi in realtà non va ad agire sulle cause dell'inflazione, perché in realtà qui ci troviamo di fronte all'inflazione da costi, nel senso che l'indomani della guerra in Ucraina le compagnie energetiche ne hanno approfittato per evitare i costi energetici, innescando un circuito speculativo, perché in realtà i costi energetici non è che comprano l'energia mese per mese, giorno per giorno, ma fanno contratti pluriennali, per cui la borsa di Amsterdam dove viene fissato il prezzo dell'energia ha speculato sulla guerra, ma in realtà le compagnie energetiche avevano i prezzi bloccati e lo si vede chiaramente se uno va a vedere gli utili di Enel, Eni e i costi cross energetici vedrà in questi anni il loro fatturato è aumentato vertiginosamente con miliardi di euro di utili e questi miliardi di euro di utili sono sottratti fondamentalmente alla popolazione e al sistema produttivo, ma è di fatto una speculazione che ha innescato però un innalzamento dei prezzi, per cui è al limite in questi frangenti a livello produttivo che lo Stato dovrebbe intervenire, non calmeranno i prezzi di due o tre prodotti a livelli comunque già confiati dall'inflazione, però diciamo che in questo momento aiuterebbe avere per esempio dell'energia o delle compagnie energetiche nazionalizzate, perché se ci fosse una compagnia energetica pubblica potrebbe benissimo calmerare il prezzo dell'energia, o lo Stato potrebbe imporre dei prezzi più equi, ma non va a contrastare i colossi energetici, ma si limita a questa forma di misure che però sono totalmente totalmente inutili. Come nota positiva però possiamo dire che da un certo punto di vista se l'inflazione arriva come un po' una vadirata su una popolazione comunque impoverita da trent'anni di ricette neoliberiste e di austerità europea, c'è da dire che tendenzialmente l'inflazione favorisce i debitori, mentre colpisce di più i creditori, perché nel momento in cui il credito torna con un'inflazione alta il suo valore monetario è lo stesso, ma il valore reale è inferiore. E inoltre, infatti, chi teme di più l'inflazione sono per esempio gli speculatori, perché se il rendimento del loro patrimonio è al 4-5%, l'inflazione lo supera, di fatto l'inflazione erode il rendimento dei titoli. Quindi, così diciamo che se la popolazione ha da temere l'inflazione, i speculatori forse la temono ancora di più. Guarda, ti do un'altra mezza notizia positiva, perché poi tutto va preso con le pinze, ma sulla scorta delle ennesime dichiarazioni di Tajani, che ipotizzava un ennesimo pacchetto aiuti all'Ucraina, proprio ieri è intervenuto Giorgetti dicendo andiamoci piano con queste dichiarazioni, perché i soldi non sono così tanti. E quindi, diciamo, il governo si sta facendo un attimo i conti in tasca, ma ci vuole, per questa nuova legge di bilancio che devono fare e anche per tenere buono l'elettorato, perché insomma, all'ennesimo pacchetto aiuti all'Ucraina, dopo la situazione economica italiana, è chiaro che un poco gradimento, una abbassamento del gradimento, è ipotizzabile. Certo. Professore, chiudiamo la puntata con lei e ritorniamo alla questione nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Abbiamo visto nel video di prima come Giorgia Meloni, insomma, scherzando con i giornalisti rispetto a quella domanda un po' cattiva che le era stata fatta dal governo tecnico, parlava comunque di una legge di bilancio che sarà seria, come d'altronde lei definisce tutte le politiche di questo governo, di questo primo anno di governo. Ci sono una serie di provvedimenti che il governo vuole confermare, abbiamo parlato a lungo del cuneo fiscale. Ecco, lei leggendo la nota di aggiornamento e conoscendo insomma quelli che sono i progetti del governo, i progetti pubblici ovviamente, che il governo non sbandiere a destra e a sinistra, che dia si è fatto? Ma, innanzitutto la nota sono 138 pagine, quindi evito di riassumerla qua. Il punto fondamentale per quanto riguarda anche quello che diceva, che dicevano sia il giornalista che Giorgia Meloni, il spread eccetera eccetera, è questo. Cioè il governo dice chiaramente noi non riusciremo a ridurre il debito, l'obiettivo che noi ci diamo è quello di stabilizzarlo per poi passare in una seconda fase negli anni futuri a una riduzione, ma al momento noi non possiamo porre questo obiettivo, ci limitiamo a stabilizzarlo. Come intendono stabilizzarlo? Allora, per stabilizzare il debito bisogna tenere sotto controllo il deficit e qui è che ho trovato un dato interessante che la dice lunga su cosa vuol fare il governo. Faccio riferimento, se c'è qualche spettatore preciso, faccio riferimento a una tabella, la tabella 1.3 che si trova a pagina 16 e sono delle proiezioni, degli obiettivi, anzi scusate, non proiezioni, è il deficit programmato. Allora vi chiedo un attimo di pazienza perché i numerelli sono importanti. Allora, riduzione del deficit, che è un flusso, non è il debito, il deficit è ogni anno, quindi il debito che ogni anno si accumula, mentre invece il deficit è la differenza tra entrate e spese anno per anno. Allora dal 2023 al 2026 il governo si propone di ridurre l'indebitamento netto dal 5,3% al 2,9%, quindi una riduzione del 2,4% che non è poco, non è poco. Vero che è spalmato su tre anni, però è significativo, ecco non siamo alle cifre greche, però insomma è significativo. Ma il punto interessante è questo, come intende arrivare a questo obiettivo? Con una manovra a Tenaglia. Allora l'indebitamento annuale, il deficit, quello che viene chiamato il deficit che dovrebbe essere, dovrebbe superare il 3% del PIL, è composto da due voci. Uno è quello che viene chiamato il saldo primario, che sono le entrate meno le spese e poi ci sono le spese per interessi. Allora facendo un paragone assolutamente improprio, con un bilancio familiare, improprio perché non si possono paragonare le due voci, però qui è utile e come se non dicesse in una famiglia entrano tot di stipendi, spendiamo tot e poi c'è il mutuo da pagare, no sono gli interessi da pagare. Allora cosa intende fare il governo? Per raggiungere quell'obiettivo che è realistico, è pesante ma è realistico, della riduzione del deficit del 2-4% dice una cosa, noi dobbiamo ridurre il saldo primario del 3.1%, allora ridurre il saldo primario è un modo elegante per dire politiche d'austerità, perché per ridurre il deficit io debbo necessariamente o aumentare le entrate o ridurre le spese, ma questo è un governo che sappiamo che favorisce l'evasione fiscale, l'obiettivo del governo non è sicuramente quello di aumentare le entrate, quindi dovrà per forza ridurre le spese. E questo 3.1% che cosa va a compensare? Un aumento degli interessi di quasi l'1%, il 0.8%. Cioè in pratica noi dovremmo essere più virtuosi, spendere meno per poter pagare più interessi. Non so se sono stato chiaro. E arrivo al punto perché questa manovra, ripeto, perché con gli interessi gli interessi aumenteranno, è programmato, ripeto, quindi non stiamo parlando di proiezioni econometriche che si possono, è programmato, quindi sono obiettivi. Gli interessi passeranno al 3.8% del PIR al 4.6%. Pagheremo più interessi, pagheremo più interessi, per pagare più interessi spenderemo meno. Ecco, qui io vorrei attirare l'attenzione su una cosa e dopo mi ricollego anche a quello che diceva prima Umberto Del Noce sulla citazione di Mario Monti. Allora, tutti questi problemi sorgono per una ragione semplicissima, e cioè che noi non possiamo monetizzare il debito. È chiaro, se noi potessimo monetizzare il debito, come fa il Giappone per esempio, quindi emettere soldi, denaro per pagare il deficit, questo problema non si creerebbe. Ma noi questo non possiamo farlo. E perché non possiamo farlo? Perché non abbiamo sovranità monetaria. Se noi avessimo sovranità monetaria non avremmo un peso così cospicuo degli interessi e comunque sarebbero interessi monetizzabili. Quindi alla radice non stanno comportamenti virtuosi o meno dei cittadini, ma sta un vincolo che si chiama euro e si chiama cessione di monetà, di sovranità monetaria e quindi di sovranità politica. E qui mi ricollego poi a quello che diceva appunto prima Del Norge. Cosa diceva Monti? Monti diceva noi stiamo distruggendo la domanda interna. Certo, certo, perché questo, sapete come si chiama? Questo ha un nome ben preciso e cioè svalutazione interna. Per rendere più competitivi i prodotti, di un paese, ed esportarli, se uno gode di sovranità monetaria, che cosa fa? Svaluta la moneta e i suoi prodotti risultano più convenienti. Siccome noi di questa sovranità monetaria non godiamo, dobbiamo ricorrere alla svalutazione interna, che si chiama, svalutazione interna significa una cosa. Salari bassi, stipendi bassi. E qui io non ne faccio un discorso di giustizia sociale, ma ne faccio un discorso economico, a parte anche politico, ma economico. Salari bassi vuol dire cosa? Meno domanda. Quindi Mario Monti ci aveva azzeccato. Stiamo distruggendo la domanda interna attraverso una politica apertamente di svalutazione interna, che è quella che ha distrutto la Grecia sostanzialmente. Quindi ecco, questo era il dato che aveva attirato la mia attenzione perché è un dato estremamente preoccupante, la dice lunga, su quali saranno le politiche che il governo attuerà. In futuro, nonostante queste politiche ad alta valenza simbolica del carrello tricolore, della carta dedicata a te, del bonus trasporti e quant'altro si inventeranno che non sono politiche sociali. Quella è carità. Né più né meno. Che non va sicuramente a incidere sul funzionamento del sistema economico. Può alleviare forse il disagio di qualche famiglia, ma forse e non so in che misura. Assolutamente, professore. Ha fatto anzi benissimo a sottolineare questo dato preoccupante. anche perché poi è giusto che i cittadini, nonostante i discorsi economici, spesso non piacciono perché risultano complicati, oltre che fastidiosi a causa del fatto che noi subiamo queste scelte economiche e quasi sembra che non ci sia luce in fondo al tunnel. Quindi spesso si preferisce evitare di approfondire determinati meccanismi che poi gira e rigira, come giustamente sottolinea lei, portano a confermare che i governi nazionali, il governo italiano, non essendo sovrano della propria moneta e quindi delle proprie scelte economiche, deve attuare delle scelte per garantire la concorrenza dei propri prodotti e quindi in questo caso, come diceva lei, la svalutazione interna, la svalutazione della domanda del mondo del lavoro. e mi ha dato anche l'assist a questo punto per annunciare ai nostri spettatori che proprio per affrontare questi discorsi di macroeconomia che sono, noi riteniamo fondamentali, prossimamente, nelle prossime settimane partirà un programma che come Don Quixote ha sviluppato in collaborazione con l'associazione MMT Italia, Modern Money Theory, proprio per affrontare puntata dopo puntata quelle che sono le colonne portanti di qualsiasi studio macroeconomico in modo tale da portare i nostri spettatori a comprendere perché determinati meccanismi avvengono al giorno d'oggi e quali invece dovrebbero essere i meccanismi da attuare dal punto di vista economico oltre che politico stabiliti anche dalla nostra Costituzione. Quindi la disparità tra quello che dovrebbe essere fatto e quello che invece viene fatto a causa ovviamente di una posizione dell'Italia all'interno di un consesso europeo che ovviamente ha preso la nostra sovranità. Vi devo salutare perché ci siamo dilungati molto stasera e però vi ringrazio ovviamente per la bellissima discussione. Quindi saluto il professor Lanzalaco Buonasera a tutti e l'avvocato Umberto Del Noce Buonasera e do appuntamento a tutti i nostri spettatori alla prossima settimana. Grazie Buonasera Buonasera Buonasera